bella raga ciao a tutti l'argomendone veneziano FIFA 14 Champions League Bros. Dortmund Standard Ligi dopo il 6 a 2 incredibile dell'andata speriamo di fare bene anche qua perché voglio passare il turno assolutamente campione 5 minuti nuvoloso e rientrato anche su Arez nel secondo tempo vediamo il gioiellino che tratta dopo sette mesi di infortunio ragazzi sette maledettissimi fottutissimi obesissimi mesi e vediamo Dortmund 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 e andiamo ragazzi Royce Royce si invola Royce si invola subito teoricamente con lo standard non ci sono problemi deve arrivare la vittoria non si sa mai ragazzi nel secondo tempo cazziamo anche su Arez così vediamo di far riprendere il ritmo partita Carrasco mattatore dell'andata con quattro gol in Belgio attenzione per Royce 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 sbaglia doveva fare la finta invece no non l'ha fatta Ramirez Riviere 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 missile di riviere ma murato alla difesa del Belgium dello standard degli Egi 4 punti in classifica contro i 7 del Celsea i 4 anche del Monaco e 1 per lo standard attenzione mamma mia per poco è in difficoltà ragazzi lo standard di Egi è in difficoltà sicuramente la squadra materasso del girone Strotman che vinone che vinone Strotman che vinone che vinone prova il tiro ma Riviere non riesce a prendere la palla incredibile beffa incredibile che questa squadra è riuscita a fare un punticino proprio contro il Chelsea di Jose Mourinho Pogba Ferreira Carrasco Ferreira Carrasco se ne va Carrasco se ne va Carrasco se ne va 1-0 Carrascus quinto gol contro una squadra del Belgium incredibile ironia della sorte eh ragazzi sto standard degli Egi non è niente di che ragazzi quanti errori quanti errori per la compagine belga dai Royce 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 se ne va cerchiamo di fare un'altra bella prestazione Royce per Riviere Riviere Murato Jean Paolone Riviere Tutti Jean Paolone ragazzi siamo una squadra di Jean Paolone Riviere Riviere perde palla recupera Ezechiele Ezechiele Riviere bel numero di Jean Paolone Riviere Riviere per Carrasco Carrasco perde palla la squadra è riposata incredibilmente meno male attenzione attenzione qua non bene il Dortmund non bene il Dortmund e c'è il gol incredibile pareggio degli Egi pareggio degli Egi non ci credo non ci credo Carrasco Carrasco veramente è lui l'eroe è l'eroe Carrasco contro in Champions League aveva l'inter giocatore che è stato più gol però 1-1 porca mignotta quanti errori ragazzi quanti errori in difesa attenzione adesso si è gasato lo standard si è gasato lo standard occhio a questo punto devo sperare comunque deve vincere attenzione Palova fuori gioco mamma mia che sofferenza comunque a questo punto spero che possa vincere il Chelsea perché così almeno una squadra va avanti di brutto e il Monaco perde punti perché qua la mortale per il secondo posto l'idea attenzione Ramirez 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 la mette in mezzo e Carrasco di fortuna 2-1 incredibile ancora Carrasco ragazzi il bello di notte in Champions League un solo nome Ferreira Giampaolo Carrasco la 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 che errori ma lo standard liege è proprio una squadra come fa il Bayern Champions non si sa è appareggiato col Chelsea addirittura ha una difesa peggio della mia a livello di bravura mia perché in realtà è una bella difesa Hugo who knows Silva attenzione grandissimo Carrasco Carrasco vai vai Baines 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 lancia Riviere lancia Emanuele Emanuele parata del portiere Strotman per Pogba di testa Pogba Royce Royce in area Royce cagatissima di Royce vede Tiago Silva Tiago Drago Strotman Strotman prova il missile è murato quanti errori per i legi Pogba Paul Pogba Paul il Paolino Pog Paolino Pog vai ragazzi aia Occio ragazzi Occio un po' di concentrazione adesso siamo solo 2 a 1 ragazzi siamo solo 2 a 1 no le scivolate avete ragione ragazzi la cagata fa le scivolate 2 a 2 incredibile anche anche l'andata comunque era 2 a 2 abbiamo fatto 4 gol in 10 minuti Royce pazzesca tra Standard e Borussia partite incredibili Royce attenzione il portiere fa la cagata Royce 3 a 2 ma questo non è calcio ragazzi questo non è calcio 3 a 2 incredibile portiere scellerato guardate che roba toc arriva Royce ciao ciao 3 a 2 pazzesco a Dortmund pazzesco amici pazzesco e domani raga su foot mi arriva Andri Shevchenko legend più voglio fare adesso ho venduto la serie a pazza faccio una bella premier quindi ci sarà una serie a legend con Shevchenko e una bella premier league e riprendiamo alla grande anche con foot ragazzi perché senza Sheva non ha senso continuare quindi domani ci sarà Andri Shevchenko legend e si gode ha messo concentrazione qua che dobbiamo assolutamente vincere partita come come l'andata è 2-1-0 2-1-1 2-1 2-2 no forse sono passati in vantaggio loro adesso non mi ricordo il 2-1 adesso non mi ricordo che coion che soffia non mi ricordo niente Royce Royce e lancia la difesa dello standard non esiste ragazzi Carrasco tra pochissimo entra Suarez sta già scaldando sta scalpitando Luis è il cannibale è il pistolero dai Fioy vai Alaba Alaba e tramonto Alaba e tramonto errore di Alaba come siamo vicini all'arrivo di no 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 te prego no ok e adesso facciamo un po' di cambi esce Riviere ed entra Suarez poi entra anche Pierre Emerick per Carrasco deve riposarsi ed esce anche Pauli no aspettiamo dai a questo punto no perché non è che stiamo dominando anzi poi tre cambi pericoloso se non per qualcuno sto in 10 Riviere attenzione cagatissimo cadde lo standard invece no invece si invece no chi lo sa non si capisce niente con questa difesa non si capisce niente Pogba Pogba regala la palla proprio all'Iegi attenzione il portiere mamma mia il portiere dello standard è in vena di regali oggi Ramirez quanti errori dello standard ragazzi Royce 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 per Kevinone 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 mamma mia calcio d'angolo venite a Suarez applaudito tantissimo Pogba di testa Ramirez Alaba 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 ancora calcio d'angolo Suarez è rientrato Suarez è rientrato Strootman Kevinone per Tiago Silva Royce Royce Aubame Young Aubame Young calcio d'angolo mamma mia assalto del Dortmund ancora Strootman per Hummels Qua Tiago recupera ancora molto bene Ramirez ancora ancora per palla Suarez Royce Hummels ma l'ho messo Suarez eccolo là è là è iniziato dopo il super infortunio bravissimi Kevinone che anche lui prova a strellare Suarez Suarez rientra ma chiaramente non può essere in forma il ragazzo possiamo rifare un po' di minuti Suarez 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 vuole subito segnare il portiere rinvia ma adesso è solo Dortmund only Dortmund Pogba Pogba Suarez ancora bene qua la difesa del standard qua ha fatto un paio di errori io ragazzi scusate teniamo botta Fioi teniamo botta teniamo botta Pierre Meric per Pogba per Suarez per Ramirez bel fraseggio Dortmundiano Alaba Suarez Suarez punto di Suarez Suarez parata Ramirez chi cazzo ha segnato non ho capito chi non ho capito chi forse Paolino forse Bobeyang e invece ha segnato lui Paolino Pog Paolino Pog sul tiro di Suarez 4 a 2 lo standard di Ezi 10 gol in due partite ha fatto lo standard per adesso incredibile povero standard siamo venuti fin qua siamo venuti fin qua per vedere segnare il Kumenda Suarez Suarez bellissimo Suarez ma poi la perde ma poi la recupera di gran carriera ma è fallo Suarez si incate morsica sul culo l'arbitro attenzione di testa dormita del Dortmund 4 a 3 incredibile dormita micidiale 4 a 3 non ci voglio credere ma proprio tra standard e Borussia proprio il festival del gol Suarez non ci voglio credere Suarez ancora dai piccolo Suarez nooo messo che in realtà Suarez sono cazzi per tutti vogliamo la Bundes noi la vogliamo noi vogliamo la Bundes Strootman che vinone per Royce Suarez tiro e c'è il gol questo era Bires questo era Bires sempre lui 5 a 3 all'ottantaduesimo mamma mia lo standard che squadraccia ragazzi che squadraccia lo standard 11 gol in due partite con lo standard Suarez dispensa Astis ma non segna ma è appena entrato ragazzi diamogli tempo Suarez eccolo qua Suarez vuole chiuderla lui Suarez appena entrato 6 a 3 6 a 3 ragazzi dopo il 6 a 2 dell'andata 6 a 3 in Germania ragazzi e silenzio e silenzio incredibile partita non è calcio comunque tra Liegi e Dortmund calcetto ragazzi qua e anche Suarez appena entrato dopo l'infortunio massacrante va subito in gol in Champions League la sentenza veneziana Stoborussia è una squadra spettacolare che però purtroppo ha il difetto più grande di non essere continua ma essere un po' discontinua Aubame il piccolo Pierre-Emerick Pierre-Emerick si invola Pierre-Emerick si invola non esiste lo standard non esiste Bobby Young mamma mia dai che è finita dai che è finita è finita è finita è finita è finita con questi tre punti ragazzi possiamo stare un po' più tranquilli basta fare un punto col Monaco a mio parere ed è fatta grandissimi ragazzi vediamo il risultato forza Chelsea assolutamente forza Celsea forza Celsea il Celsea dove cazzo è il Celsea non ha giocato il Celsea va bene ufficio le tue prestazioni vediamo un attimo soddisfazione colloquio grazie mister vediamo un po' no vediamo un po' le classifiche le classifiche i tabelloni 31-38 vediamo vabbè qua chi se ne frega Supercoppa ciao in Champions vediamo ha pareggiato qui diciamo 8-7-5-1 girone molto equilibrato per il secondo ragazzi match Bundes Borussia Bayern Monaco andiamo ragazzi qua è chiaro che ci sono un risultato aspetto ancora per mettere il suo Arendt non si sa mai dopo 7 mesi stiamo un po' attenti bisogna vincerla bisogna vincere se non la vinciamo al 100% la Bundes è andata dai vai nuvoloso a Dortmund qua non è lo standard ragazzi la maglia è lo stesso colore ma sono due squadre diverse qua vediamo se Borussia è diventato veramente super super grande Royce attenzione Royce subito per Riviera attenzione subito attenzione tirala bene tirala bene gol no cosa ho sprecato cosa ho sprecato cosa ho sprecato non ci voglio credere non ci voglio credere Ribery Schweinsteiger i campioni d'Europa in carica che hanno vinto ancora la Supercoppa con la Fiorentina che ha vinto l'Europa Liga attenzione Ribery Francuzzo Francuzzo Ribery Francuzzo Humer ce recupera Martinez Martinez partita attesissima ragazzi partita attesissima no Mandzukic ce lo mangia Mandzukic ce lo mangia ma c'è Ribery c'è Francuzzo incredibile incredibile ho sprecato a noi il gol subito a Francuzzo non per gol Carrasco 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 non lo ferma nessuno il cara questa è la tipica azione Carraschese calcio d'angolo calcio d'angolo e comincia la sofferenza Royce Ramirez Carrasco 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 quanto più veloce è Carrasco di testa qualcuno c'è il gol c'è il no palo di Humers vergognoso vergognoso come è iniziata la partita non ci voglio credere stiamo perdendo ho fatto tutte le azioni Carrasco ancora è infermabile il Carr è infermabile ma mi ha anche perso di brutto il posto Carrasco Royce Royce per Pogba di testa svetta Pogba ma fuori non si no no con un pareggio con la sconfitta è finita ma stiamo dominando un palo miracoli sbagliate cagate no Fioi no concentration please concentration e anche please dai Royce dai Royce Marchetto Royce vede Riviere vede Riviere Riviere ancora Neuer ancora lui implacabile Riviere Riviere deviata ma ancora Neuer non è possibile ragazzi il classico don not parole puro il don not parole puro ancora ancora non può fare niente il Bayer siamo troppo più forti ma siamo anche deficienti stiamo dominando eppure stiamo perdendo il classico Pogba 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 per Carrasco Carrasco lo vuole mettere in mezzo ancora Martínez dominio dominio puro dominio puro ma comunque siamo 1-0 per il Bayer Strotman il Bayer è grossa difficoltà però sta giocando male il Bayer ma perché ma perché ma perché ma perché ma perché ma perché adesso il Bayer comincia a fare il suo gioco no il Bayer dopo la sfuriata del Dortmund ma vale che no ma cosa stiamo perdendo ragazzi non ci voglio credere Ramirez fa il miracolo non c'è niente da fare siamo il centrocampo più forte del mondo ragazzi di testa Rivier non la prende ma recupera il pole per Alaba Francuso Alaba anche se non si chiama così benissimo Ramirez 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 ancora no ilotto tiri a due ma il Borussia sta perdendo 1-0 inconcepibile questa partita inconcepibile questo è il match Bundes non ci credo non ci credo bravi Ramirez ed è fa no vergognoso vergognoso questo non è non è mai fuori gioco non è mai fuori gioco Carrasco Carrasco fuori ma perché ma perché tiro così io tutte le mie tensioni perché perché questi errori quando serve perché vinciamo Will con mille gol in Champions e poi facciamo ste stronzate ma perché è inconcepibile tutto questo è inconcepibile ma porca miseria cosa stiamo perdendo non ci credo dai attenzione Royce non ce la fa recupera Kirchhoff chi cazzo è Muller Javi Martinez Riviere Riviere per Royce dai ragazzi voglio andare a riposo sull'1-1 è il minimo ma è veramente il minimo Royce Royce è ancora Neuer ancora lui ancora lui Tiago Silva da solo Silva è la quindicesima attraversa o palo di Silva basta secondo palo anche nella partita Royce Royce ancora Neuer è ancora lui è sempre più lui Royce per Tiago Silva non riesce mai a segnare Silva ha preso 7 o 8 pali adesso non ricordo Hummels Ramirez questo è veramente un dominio forse il dominio più grande della storia del Dortmund e qua vado a sbagliare perché mi sono focalizzato troppo va bene insomma stiamo zitti ma è qua non ci voglio credere non ci voglio credere cosa stiamo perdendo e non basta neanche il pareggio quello è il bello perché l'Italia lo sbagliate anch'io eh però i pali i miracoli bellissimo ancora non c'è proprio però il Bayer con il Bayer sono sempre belle partite comunque Royce Royce 1 a 0 porca miseria 1 a 0 Riviere si è infortunato secondo tempo vai di Suarez no sta calmo sta calmo sta calmo manca ancora tanto e comunque siamo 1 a 1 perché appena segno ci rincoglioniamo ok Riviere finisce il primo tempo adesso entra Suarez adesso il cannibale e adesso il cannibale deve segnare e adesso deve segnare il cannibale ma porca miseria quante me ne sono mangiate ok Riviere Suarez mettiamo anche Obame per Carrasco oggi Carrasco non ha fatto cose incredibili per quanto ha fatto un bello che gioco anche lui Royce Suarez Ramirez attenzione che passaggio Suarez subito 2 a 1 2 gol in due partite si è rotto tutto il crociato ma è tornato più forte di prima Luis cannibale pistolero Suarez 2 a 1 il calcio è incredibile ragazzi il calcio è una cosa incredibile comunque ormai abbiamo trovato l'alchimia perfetta ragazzi il Borussia gioca a memoria Fioi c'è 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 Shakira 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 c'è Shakira oh c'è Shakira che ci fa il waka waka merda no valla che culo Schweinsteiger Schweinsteiger non ci credo si segna nooo surri in pallo non che credo non ci voglio credere che schifo dai che sfruttiamo il buco subito dai che sfruttiamo il buco subito c'è il gol di Suarez e c'è il gol di Suarez incredibile incredibile subito Suarez riporta tutto sul 3 a 2 grande Pierre-Emerick grande Pierre-Emerick adesso difesa e chi se ne fotte dai ragazzi dai ragazzi Shakiri stiamo calmi adesso stiamo calmi roba nostra roba nostra roba nostra relax relax Ramires 54esimo ragazzi 54esimo 3 a 2 possiamo andare a meno 4 un'occasione più unica che rara ragazzi e il Bayern ha già pareggiata una va il contropiedone va il contropiedone Suarez è tua Suarez 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 entra calcio d'angolo Pogba ancora corner ancora corner Royce Marchetto Royce Suarez madonna miracolo di Neuer Suarez spettacolare Suarez ancora Neuer incredibile ragazzi incredibile incredibile Borussia finalmente però una squadra che veramente sto divertendo l'altro anno pochi gol però anche pochi gol subiti quest'anno ci sono tanti gol fatti ma anche tanti gol subiti siamo ancora 3-2 però non è ancora vinto niente noccio aia bravissimo dai strotman fa la cappella strotmaniana e qualcuno si è rotto qualcuno si è rotto e Tiago e Tiago e Tiago e Tiago che si è rotto non ci credo Tiago si è rotto altro problema ritorna su Aret non ci credo 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 Tiago Silva si è rotto ho già fatto il cambio pippone l'ho già fatto l'ho già fatto l'ho già fatto Aubame bravo Aubame per Hummels per Subotic per Ramirez fortunati con Silva attraverse pali più l'infortunio meglio di così settantesimo settantesimo ragazzi attenzione le gozze marietto gozze per il Bastian sfa Instagram Mandzukic ve prego fio ve prego no adesso momento brutto perché Tiago Silva non me l'aspettavo sto infortunio no c'è ragazzi Shakira Shakira Shakiri Alaba Royce molto bene Arami adesso sbaglia un po' impreciso il Dortmund calma ragazzi madonna Shakiri 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 bravissimi vai Suarez e qua c'è il contropiede il Bayern ma anche tutti in avanti noi di contropiede vai Suarez vai Royce scusate Royce vai Royce Royce non si credo Pameyang lo si è mangiato ancora si è mangiato Emeric entra Karim Benzema per Mandzukic c'è veramente il Bayern ha una squadra devastante Benzema riserva però anche noi siamo la meno calcio tedesco è veramente cresciuto tanto se penso che dieci anni fa la Bundesliga era un campionato di merda adesso penso cosa è diventato rispetto a quello italiano ma poi il contrario ragazzi il Benz il Benz Karim Giampaolo Benzema Karim Giampaolo un gol mamma mia mamma mia che sofferente errore nello stop di Lam e Suarez se ne va Suarez se ne va Suarez se ne va di testa qualcuno c'è il gol madonna del signor madunina del signor madunina del signor no 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 parole mio no no parole no il beffone il beffone gol ma puttana miseria ma perché sti errori in difesa ma perché buttala via la porta vuota hanno sbagliato anzi l'ha deviata qualcuno perché se no non dava l'angolo chiaramente buttala su Suarez un minuto alla fine vittoria forse attenzione Suarez contro piedone Suarez 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 per chiudere dimostrare sono i più forti Suarez rigore non me lo dà non me lo dà chiaramente 3 di recupero 3 di recupero ragazzi 3 di recupero andiamo a meno 4 e allora la Bundes si riapre da meno 9 a meno 4 in due partite attenzione Suarez 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 inventa il capolavoro ma Neuer ancora no ancora no Strotman per Pogba per il sigillo ancora Neuer dai che è finita 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 Pogba si è fatto male ma porca miseria ma abbiamo vinto 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 21 tiri a 7 fioi madonna che grande prestazione andiamo a vedere la classifica è una classifica positiva adesso è una classifica molto più stimolante 38 Bayer 34 Borussia 30 Schalke raga un saluto dal Kumendone veneziano ma attenzione vediamo medico sociale giocatore infortunato però non me ne frega niente aspetto l'Italia 4 settimane per Tiago Drago Silva Piszczek non è felice a me non mi ha fatto un cazzo raga un saluto da veneziano cumenda veneziano cumenda veneziano lo youtubers italiano cumenda veneziano cumenda veneziano cumenda veneziano lo youtubers italiano bull 公endone veneziano isha ins coupon pounce commander volta saluto il vis 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 Grazie a tutti.